Una cartica che io guardo a donde te escrivi Que te sueño e que te quiero tanto Que se al rato sta in mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Il video introduttivo al video della nuova estrazione di Gioi Allora, perché ho estratto di nuovo? Sostanzialmente sono nate un bel po' di polemiche Perché io ho estratto, è uscito il commento di una ragazza Che tra l'altro mi piaceva come commento Perché era carino come commento Però si è scoperto che questa ragazza Sostanzialmente scrive lo stesso commento sotto parecchi giveaway Uguali, identico a quello che ha scritto a me Con le stesse faccine Cioè, proprio uguale Devo dire che io un pochino ci sono rimasta male Spiego perché Perché a me il commento era piaciuto Perché sembrava proprio rivolta a me Che io faccio video molto semplici Vedete, sono struccata, non sto a pensarci molto Poi però vedere che in realtà Non è un commento pensato per me Però solo ho copiato Copio e incolla sotto 50 giveaway Solo per vincere il premio Mi è dispiaciuto Detto questo Si sono lamentate parecchie ragazze Per questo motivo Io non ero sicura di questa cosa Mi è stata mandata la prova Infatti poi l'ho inviata anche la ragazza Ho parlato con la ragazza Ci è rimasta male Lei inizio negava tutto Però poi ci è rimasta male di questa cosa Perché ovviamente non riceverà più il premio A me è dispiaciuto Perché io non sono stronza ragazze Non sono stronza e insensibile E mi è dispiaciuto Io l'ho detto Però a parte questo Una ragazza l'ha palesato sotto il video Che già conosco La ragazza la conosco Perché mi seguo da tanto tempo Ed è stata lei appunto farmi anche A dirmelo per prima Però mi sono arrivata anche delle mail Ora tolto questo discorso Volevo dire che penso che sarà l'ultimo giveaway Che farò per un bel po' di tempo Perché c'è un'altra parte Che mi ha fatto proprio girare le balle Perché praticamente mi sono state mosse Non delle accuse Però è stato detto in modo gentile Ma comunque mi ha dato fastidio Che io praticamente Sento sottinteso Che ho imbrogliato Facendo vincere una ragazza Che conoscevo Che era mia amica Ragazza mai conosciuta Mai vista Perché se mi conoscete Se seguite i miei video Sapete che io Non ho amiche su Youtube Tranne una Che è l'Eleater Jacket Che conoscete Perché ha fatto tanti video In collaborazioni con me Ma perché è una ragazza Nel mio paese Non ho amiche su Youtube Ragazze Quindi c'è Che mi venga messa una cosa del genere Ma girano le balle Perché lei diceva Eh tu non hai reso pubblico il video Mentre facevi l'estrazione Sono 6 o 7 giveaway Che faccio così Se sostanzialmente Perché chi non edita video su Youtube Non sa cosa vuol dire Perché io Ho la rete internet Che non è lenta di più Io per editare un video Ci metto Un video dell'estrazione Che dura 3 minuti E qualcosa Ci ho messo più di un'ora A editarlo A caricarlo Più di 3 ore Un video di 3 minuti E qualcosa Con la linea internet Che ho io Quindi Adesso questo video Mi ci metterà tutto il giorno Ve lo dirò Perché se unisco Le varie parti Ve lo dirò E ci mette tutto il giorno Quindi Se non sapete Come funziona Youtube Cioè Una cosa che mi dà fastidio Che poi Io ho cercato di spiegare A questa ragazza No lei continuava No tu devi pubblicare Il video dell'estrazione Ma come faccio a pubblicarlo Se non l'ho girato Adesso sarei contenta Come altre Sarete contente Che faccio il video di estrazione Di nuovo Così adesso l'ho ripreso Così siete contente Tra l'altro Ho dovuto cambiare Modo di estrazione Perché io Quella roba lì L'avevo buttata Io praticamente Forse ve lo dico nel video Per fare l'estrazione Avevo dato un numero Ad ogni commento Ed erano 365 commenti Non è che sono andata A tenermi tutti i fogli Li ho buttati Cazzo Mi tengo i commenti I numeri Li avevo buttati Adesso però Per evitare di fare 365 commenti di nuovo Ho fatto Più di 365 Non so quanti sono Ho numerato le persone Le persone che hanno commentato Ho dato un numero a ogni persona E sono 150 Se non sbaglio Beh detto questo Sostanzialmente Non farò un bel po' Di giveaway Per un bel po' Perché mi sono proprio Ci sono Mi sono girate le valisi Ma ci sono rimaste male Non basta che uno Vi fa Un regalo Cioè Un giveaway È fatto Perché La youtuber Faccia un regalo Alli suoi iscritti Per ringraziarli Di quello che fanno Per lei Tutto quanto Cioè Vi sto facendo un regalo Manco fossi obbligata A farlo E dovessi seguire Le vostre regole Per farvelo Io ci sono rimasta Malissimo Sono sincera Quindi Io giveaway Non ne faccio più Per un bel po' Di tempo Giveaway Non li vedrete E se farò qualcosa Lo farò soltanto Più avanti E cambierò un metodo Perché così non lo voglio Cioè Ci sono rimasta Di merda Ragazzi Mi Scusate Mia mamma Che sannudisce Ci sono rimasta Veramente di merda Quindi niente Vi lascio al resto del video Ciao ragazze Spero che abbiate capito I miei intenti Perché È così Ciao ragazzi Alla prossima Un bacione Bene ragazzi Eccoci qui nuovamente Con l'estrazione del giveaway Allora Io vi spiego cosa avevo usato Per fare l'estrazione Avevo usato random Dov'è? Scusate Ecco qua Random.org Però Io avevo fatto una lista Su un foglio Avevo numerato ogni commento Non 360 commenti E via E con il nome è tutto Però io quella roba lì Non ce l'ho più Ovviamente Perché avendola fatta L'ho buttata E tutto Non andavo a pensare Che dovevo conservarla Quindi Per non Metterci troppo tempo E non dover rifare tutto Praticamente Ho dato un numero A ogni nome Di persona Che ho commentato Allora Le persone che hanno commentato Sono 150 Commenti ovviamente Sono di più Perché ognuno Poteva commentare Fino a 10 volte Andiamo su Random.org E scrivo Un commento Uno Su 150 Giusto? Sì Quindi Cancelliamo Non so dove sto inquadrando Ma non è facile Di prendere Come ho detto Un milione di volte Però devo farla Perché sennò C'è chi si lamenta 150 Generiamo 146 Ok Eccola qua C'è proprio qua L'ultima Allora 146 Frank Beyond Quindi Frank Beyond Quindi Frank Beyond Ha vinto il mio giveaway Aspettate che cerco il commento Se è alla fine Sarà uno degli ultimi Eh esatto Quello qua Sì è lei Lei Credo sia lei Frank Beyond Perché Dopo abbiamo Lula Esatto Lula lì Allora Frank Beyond Un mese fa Partecipo E condivido su Facebook Vabbè La condiviso Tanti auguri di buon anno nuovo Adesso vediamo se è iscritta al mio canale Se vado a vedere Metto in pausa Poi riprendo Sennò ci metto un'ora Ok ce l'ho fatta Dopo tipo tre anni È iscritta al mio canale Eccolo qua Vi faccio vedere che è lei Torniamo su È lei Vedete Frank Beyond Ok Sei iscritta al mio canale Vediamo se tu mi hai scritto che avevi condiviso Eh ma come ti ritrovo Sì Sono proprio stordita Ma infatti c'era anche il link Adesso andiamo a controllare anche quello Ecco Vi faccio vedere che ha condiviso anche su Facebook E Francesca Biondina Su Facebook Però su Su YouTube È Frank Beyond Quindi Frank Beyond Contattami pure sulla mia mail Scrivimi nella mail che troverai qui sotto E niente Mandami i tuoi dati Così potrò spedirti il pacchetto E niente ragazzi Al prossimo video Non dico al prossimo giveaway Perché ormai avete sentito le mie ragioni E spero che Questo giveaway comunque vi sia piaciuto Vi mando un grande bacio Alla prossima Ciao ragazze Ciao